Volevo parlare dei video che vanno di moda culture shock, shock culturale. Nel 99% dei casi è una chiappa visioni, quello che chiamano clickbait, io chiamo acchiappa visioni, mancanza di originalità, lo fanno tutti, lo faccio anch'io, ho vissuto all'estero per due settimane, shock culturale. Allora, sapete dov'è lo shock culturale? Se io vado in una tribù della Papua Nuova Guinea e scopro che fanno antropofagia. Se vado in una tribù dove scopro che l'incesto è cosa comune, o, non lo so, questi sono shock culturali, oppure, non so, una tribù perché sbagli a cucinare una cosa ti tagliano una mano, o in Arabia Saudita dove c'era il taglio della testa in pubblico. Beh, quello sì è uno shock culturale. Ma per il resto, no, un americano che viene in Italia, e scrive shock culturale, perché la gente non prende il cappuccino alle 11, o perché, non lo so qual è lo shock, io sono stato in America, sono stato in Francia, sono stato in Grecia, ma non sono stato scioccato in America ceppa. Uno, perché questi shock lo possa avere qualche americano che ha vissuto sempre nel suo paese, paesino del cazzo, nell'Arkansas, e non ha avuto a che fare con diverse culture, perché già uno che sta a New York o a Chicago, in una grande città, ma anche a Los Angeles, è abituato a una differenza culturale con gente ispanica e gente che viene da altre parti del mondo. Quindi tutto questo shock culturale, ma dov'è lo shock? Cioè la parola shock è una parola specifica, ragazzi. Cioè rimanere scioccati è qualcosa di raro e accade in specifiche circostanze. È chiaro? Adesso che usiamo le parole, usando l'iperbole, l'enfasi, no, scioccato, oppure persona parla dieci lingue perfettamente. Non le parla perfettamente. Sono cazzate. Sono fluente in... Ma non sono fluenti, l'ho visto commentare fluente in dieci giorni. È la stessa cosa. Va di moda dire queste cose qui. Ma ripeto, io... Ecco, uno che pur al contrario che è vissuto in un villaggio africano, non avendo contatto con nessuno, e viene paracadutato al centro di Mosca, è uno shock culturale. O viceversa. Ma adesso, poi, oltretutto, viviamo proprio anche a causa di questi video. Sappiamo mediamente qual è la vita. Basta vedere diversi video di gente comune. Avete una vaga idea. Ok? Poi vi mettono esattamente la stessa idea come andare sul posto. Però, se io vado in Spagna, so che mangiano alle nove, alle nove e mezza, alle dieci di sera la cena. Se so, vado al nord, più vado al nord, più la cena è alle sette, alle sei e mezza, alle sei. Non è uno shock, ragazzi. Qual è lo shock? Vai negli Stati Uniti, la gente subriaca, o anche nelle scene franici, in Italia non è. Non è comune, ma rimanere scioccati. Se io vado in un posto, che ne so, vado in un paese, guarda, se vai a cena con gli amici, ti invitano a casa di qualcuno, il padrone di casa esige che tu gli faccia un bocchino. Come, è così, se no, quello sì sarebbe uno shock. Oppure, guarda, se invidi a cena qualcuno in questo paese, se la gente non piace, gli invitati ti prendono, ti levano la maglietta, tirano fuori una fusta e ti frustano a sangue sulle spalle. Beh, sì, sarei scioccato. Per il resto, ragazzi, sciocco, scioccato. Cioè, gli sciocchi si scioccano. Gli stupidi si stupiscono. Quella è l'origine, poi, anche etimologica. No, non so, forse sciocco e scioccarsi, no, ma stupido e stupirsi, sì. E quello è, cioè, io vedo questi video, sono scioccato, che ne so, in America mangiano una pasta scotta, lo sanno tutti. Cosa c'è da scioccarsi? Stupirsi, vado al supermercato, ci sono sei bottiglie impacchettate, non posso staccarne una. Cazzo, non ci dormo la notte, devo comprarle tutte e sei. Oppure, oh, in Italia prendono il caffè e il cappuccino al bancone. In Grecia, per esempio, si siedono, ti portano la tazzina di caffè, che è molto più spessa di questa, in modo che trattiene il calore, perché il caffè greco, quindi, è fatto con della polvere molto fine, quindi, te lo danno già zuccherato, ti chiedono quanto zucchero fai, e poi ti danno un bicchiere d'acqua fredda, in modo che puoi anche aggiungerlo al caffè, e ti ponde come lo trovi. È scioccante? No, è diverso, ma non è scioccante. In Turchia danno il tè in queste tazzine, in bicchieri molto lunghi, trasparenti, con poco tè. È scioccante? No, è cose turche, diciamo. Ma, per il resto, ma di cosa stiamo parlando? Di minchiate? È questo. Scioccatevi. Questo è l'unico video che... Questo è buonsenso, non è niente di particolare, non è che mi sono inventato l'acqua calda.